Musica Abbiate pietà, vi prego Sono un lavoratore, ho famiglia Che genere di lavoro fai? Sì, scavo per lo più Ci ho messo un anno a trovare questa camera E negli ultimi tre mesi ho provato a oltrepassare questa porta Non hai fatto molti progressi Non l'ho neanche scalfita Questa pietra è più dura dell'acciaio Non ce la farai Questa porta protegge oggetti più preziosi di tutto l'oro del mondo Ah, intendete dire gemme? Ci sono delle serrature qui Dove sono le chiavi? Quei templari ne hanno trovata una sotto il palazzo del sultano ottomano E immagino che il libercolo dirà loro dove sono le altre Libercolo? Una sorta di diario Quel maledetto capitano se lo porta dietro dovunque Torna a casa Trova lavoro da gente onesta Oh, mi piacerebbe andarmene Ma quegli uomini mi ucciderebbero se ci provassi Prendi gli attrezzi Oh, mi piacerebbe andarmene L'assassino non deve mettere le mani su quel libro Una volta raggiunto Leandros usciremo dal villaggio con lui Guardategli le spalle e assicuratevi che nessuno lo segua Tagliategli le vie di fuga Ci asseminati? Ho già visto che non è un aspetto a famiglia Meglio che a presto Non è un aspetto a famiglia Non è un aspetto a famiglia Non è un aspetto a famiglia Ma perché? Non mi parte, non lo voglio sapere Non è un aspetto a famiglia Tagliati di mezzo Nessuno se ne va finché l'assassino non è morto È chiaro? Perdonate capitano, ma sembra che ci abbia davanti Vai! 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 Vai!